Eccomi, 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 buonasera amici e amiche rossoneri, ragazzuoli e ragazzuole belle, buona serata di questo lunedì 22 gennaio 2024, ore 18.32, ore 6.32 della sera, buona giornata se mi vedi di martedì 23 gennaio 2024, abbiamo passato una domenica felice, certo, abbiamo passato un lunedì felice, certo, è uno spettacolo. Allora ragazzi, il primo idiota dei corri razzisti, responsabile dei corri razzisti, dei tifosi dell'Udinese che hanno rivolto verso il nostro magico Mike Magnan, è stato beccato, tradito praticamente da un video social, questo praticamente nella vita non ci ha capito niente, o io lo dico subito, che sia chiaro, tra tecnologie varie, tecnologie di tracciamento, poi adesso c'è anche la legge che ha fatto Bruxelles, il defense act che va a beccare chiunque da qualsiasi parte, certa gente secondo me è proprio scema, a priori non ci ha capito ancora una mazza, per cui questo qua è stato beccato, poi verranno beccati altri e via così, andiamo, forza e coraggio a beccare questi quattro mammelucchi che ora. Allora ragazzi, prima parlo delle notizie che ruotano intorno al nostro Milan, poi parlo dell'argomento a copertina. Oggi si è parlato di questi tre difensori, ma ce n'è uno che è stato dimenticato in questa copertina che ce l'ho ma adesso ve ne parlo. Il mio è un appello che faccio al Milan, vi pongo io un ragionamento, poi voi sotto nei commenti dirittemi pure la vostra. Allora ragazzi, si è risolta la questione Luca Romero e siamo vicini a risolvere anche la questione del nostro difensore Marco Pellegrino. Entrambi due ragazzi giovani che sono stati presi quest'estate, è ovvio che non tutti gli acquisti possono andare alla grande, nel senso di dire che scopre un fenomeno, dei fenomeni. Diciamo che questi ragazzi si sono rivelati, dei ragazzi, dei giocatori in questo momento, normale, ma che possono sicuramente dire a loro forse più di uno dell'altro è Luca Romero. Adesso vedremo anche Pellegrino. Vabbè, comunque la notizia è che Luca Romero in questo momento è un giocatore dell'Almeria, va a giocare in Spagna, per cui niente Boca Junior, niente Como e nessun'altra squadra l'hanno spuntata loro. Eh sì, perché poi è sempre una questione di questi, di soldini. Io sono contento, io personalmente sono contento che Luca Romero ritorna a giocare in Spagna perché può ritrovare se stesso. Comunicato ufficiale dell'Almeria su Twitter, questo è un comunicato ufficiale della squadra Almeria. Luca Romero è bianco-rosso, l'Ud Almeria e l'AC Milan raggiungono un accordo per il prestito del calciatore fino alla fine della stagione, benvenuto. Insomma, un in bocca al lupo e mi raccomando fai bene Luca Romero. A proposito, piccola parentesi, voglio mandare un in bocca al lupo a Gigi Riva e alla sua famiglia perché Gigi Riva oggi in casa sua non è stato bene, è stato ricoverato, stanno valutando se operarlo a cuore. Dai, forza e coraggio, mi raccomando. Un mito del calcio italiano. Marco Pellegrino invece è il nostro difensore. A quanto pare, secondo Sky Sport questo, andrà in prestito alla Ternana praticamente fino alla fine della stagione. Poi, una notizia di cui io non vi ho parlato questi giorni, so che altri canali ne hanno parlato, so che altri giornalisti ne hanno parlato, online e quant'altro. Io non ve ne ho parlato perché voglio andarci un po' con i piedi di piombo, perché vi dico la verità, su queste cose qua bisogna starci un po' attenti, anche se secondo me c'è più un profilo ideale per il Milan, secondo me, rispetto a un altro. Lo so, l'avete visto su YouTube, l'avete sentito parlare, lo ripeto, in TV, sulla carta stampata, online, soprattutto online piuttosto che. Zirk Zee del Bologna, attaccante, e Sesco. Allora ragazzi, parliamoci molto chiaramente, tutti e due ottimi profili. Diciamo che Zirk Zee del Bologna è un po' più a buon prezzo rispetto a Sesco. Sesco, vi voglio ricordare che è un ragazzo di 20 anni nel farne 21, del 2003, e il discorso è questo. Lo sloveno, a mio modo di vedere, ha più fisicità, ha più capacità ancora di miglioramento rispetto a Zirk Zee. Non che Zirk Zee sia uno non capace come Sesco, ma io lo vedo di più Sesco come ragazzone ideale per il nostro Milan. Sesco è dell'RB Lipsia, della Galassia Red Bull, però il problema è che Sesco vale, viene valutato dall'RB Lipsia, 50 milioni di euro, Zirk Zee, un altro tipo di discorso. Ragazzi, adesso lo vedremo anche questo qua, il giocatore del Bologna contro di noi questo sabato sera, vedremo come andrà a finire, sicuramente sarà una partita tosta, i nostri ci dovrebbero mettere il massimo, perché insomma il Bologna sta passando un periodo molto difficile, si è praticamente arenato, Tiago Motta, tutti i suoi ragazzi si sono arenati. Vedremo, in teoria, secondo i numeri attuali, noi dovremo passare contro Bologna. Io ripeto, io vedo, a mio modo personale, di inquadrare la cosa di più Sesco di Zir Zee, lo vedo più un giocatore proprio più da Milan. Anche perché, ragazzi, guardate Okafor, che tipo di visione ha del gioco. Questa è la Galassia Red Bull, io non so se voi l'avete presente, ma andatevi a informare un attimino su YouTube, ma guardate che la Galassia Red Bull ha di quei centri di allenamento, di allenamento, di terapia e quant'altro dei giocatori di calcio del loro squadra, che sono una roba pazzesca. Ragazzi, ma io vi dico, allora, Milanello noi l'attrezzatura ce l'abbiamo, non è che siamo gli ultimi scappati di casa, ma se voi vedete la Red Bull cosa fa, è una roba galattica, ma la Red Bull, vi voglio ricordare, la bevanda energetica per antonomasia più famosa al mondo, ha un fatturato che supera i 13 miliardi di euro. Ragazzi, ma avete capito cosa fattura la Red Bull? Cioè, no beh, ragazzi, la Red Bull è una roba imbarazzante, ragazzi, sono ricchissimi, hanno di quelle strutture. E per quello che io andrei più su Sesco, allora io dico, ma questo zizi, che siamo sicuri? Non è che fa la fine di Ozyman che ha fatto un anno forte e poi è crollato. Qualcuno di voi mi scrive anche, ma il Milan non può comprare Ozyman. No, dai. Noi talenti dobbiamo coltivarli, cioè dobbiamo prenderli che si coltivano step by step, non che esplodono un anno, poi l'anno dopo praticamente si afflosciano come un soufflé. Dai, questo è il discorso. C'è tutto un discorso lungo che adesso non vi voglio annoiare dietro. Però forse qualcuno di voi mi ha già capito cosa voglio dire, dai. Allora, per il discorso invece Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è tutto rimandato all'estate prossima. Urbano Cairo spara 40 milioni di euro. Oh, parliamoci chiaro, per l'estate prossima la spesa è una spesa ancora per l'ennesima volta che sfore 100 milioni di euro. Perché se tanto mi dà tanto, allora non dico che noi pagheremo per un eventuale Sesco 50 milioni di euro, però 40 milioni di euro e passa più bonus. In più questo qua, buongiorno, 40 milioni di euro, per cui 35 più bonus. Vabbè, ci siamo già capiti come andrà a finire. E adesso qui vi faccio poi un mio ragionamento. Allora, il discorso è proprio ricollegato a quello che vi ho detto adesso. Il Milan, comunque, il difensore, io come... Allora, io lo ripeto l'ennesima volta. Allora, noi chiudiamo questo mercato con questo difensore. Con questo difensore. Sul discorso attaccante c'è stato un interessamento oggi del Milan con il Newcastle. Perché il Milan vorrebbe prendere un giocatore un attaccante di Newcastle. Però questo qua è un classe 1993. Non mi ricordo, mi sembra di Wilson. È un classe 1993. Ma cosa prendiamo? Un classe... Vice Giroud. Un altro con gli anni su... Dai, basta, basta. Ma comunque questa è una voce di corridoio. Eh, su, lasciamo il piede. Allora, diciamo che l'avete visto in copertina. Uno è l'Englete. L'Englete, il suo cartellino di proprietà è il Barcellona. Non è mai esploso perfettamente con Barcellona, però con la Stoneville sta facendo molto bene. Sembra che però la Stoneville non lo faccia a partire perché è in prestito della Stoneville, ma la Stoneville sta rispondendo picche. L'altro è Kivior dello Spezia, di proprietà dell'Arsenal. L'Arsenal chiudeva completamente la trattativa. Sembra che adesso c'è uno spiraglio con l'Arsenal. E l'altro è Cialobà. Perché di buongiorno vi ho già parlato, ho rimandato che state prossime. È Cialobà. Eh ragazzi, Cialobà. Chelsea? Col Chelsea? Proprietà del Chelsea? Eh... Si dice che c'è un Mr. X, ma per me il Mr. X potrebbe essere Cialobà. Come si fa a sapere? Oppure uno che proprio non è uscito. Vado intuito. Bene, adesso vi faccio la mia riflessione e poi vi saluto. Allora, io faccio un appello al nostro Milan. Milan, pensaci bene, io lo dico, la dirigenza come Milan intendo la dirigenza al completo. Dal Presidente alla D, per cui Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Gioffri Moncada ed Ottavio. Allora, io faccio un appello al nostro Milan. Ma state attenti, pensateci bene su questo discorso del difensore. Perché se noi dobbiamo spendere soldoni l'estate prossima e visto che siamo già nel 2024, sto parlando di anno finanziario e tutto il resto, io in questo momento mi terrei stretto Simic e poi farei passo ulteriore la prossima finestra di mercato, cioè l'estate d'estate 2024. Che poi ci sono anche gli europei di calcio in Germania, dove possono venire fuori dei talentini. Per cui, cara dirigenza, caro Giorgio Furlani, caro Moncada, datemi una svegliata, perché non è che vi devo dire io di svegliarvi a voi. In caso di male dovrebbe essere il contrario, che voi potete dire a me di svegliarmi. Però qui in questo caso mi sa che ve lo sto dicendo io a voi. O magari già lo pensate e non lo fate sapere a nessuno. Però io vi prego, non facciamo acquisti affrettati che ci servono i soldoni per l'estate prossima. Per due fattori, oltre che per l'attaccante pazzesco e galattico da 50 milioni di euro che vogliamo, e per me Zirzi non è uno di quelli, parlo per me, o se a te ti piace Zirzi non mi vieni a scassare le balle qua, che sia chiaro. Perché sennò deve scasso io le balle. Allora, se io devo prendermi un sesco che comunque costa 40 milioni di euro più il... e questo è un mega giocatorone, è un giocatore pazzesco questo qua, c'è un margine di crescita altro che Zirzi. Vabbè comunque poi ognuno la vede come il cavolo vuole. Se io devo prendere un sesco che costa più di 40 milioni di euro più... cioè 40 milioni più bonus. Se mi devo prendere un buongiorno che comunque è il difensore del futuro, questo va detto, ma perché devo per forza spendere i soldi adesso. Oh, moccata, Giorgio Furlani, date una svegliata, te le tue cavolo di idee strambe su Tiago Motta in panchina e tutto il resto che te lo vai a ciappare in ratta. Antonio Conte sempre, Antonio Conte! Allora, il concetto è questo. Io non farei... io ve lo dico sinceramente, io non farei una mazza. Cioè io a questo punto chiuderei già qua il mercato. Basta. È arrivato Terracciano, è arrivato poi là, basta, chiuso, finito. E ti porti l'estate prossima. Ti prendi buongiorno, ti prendi il mega attaccante, ti prendi, non so, il centrocampista che ci serve. In realtà più che il centrocampista io prenderei il forte vice Teo Hernandez, che questo è molto importante. Perché alla fine della fiera, l'estate prossima, dobbiamo prendere tre, quattro giocatori, ma tre giocatori. Cioè, non so se mi sono spiegato. Ragazzi, dai, su. Poi io ci farei una valutazione su Jovic, attenzione. Perché abbiamo visto l'attacco a cosa succede se uno si fa male, no? Vabbè, comunque, io vi ho fatto la mia riflessione, ditemi la vostra, vi mando un abbraccio, forza mia, sempre, comunque, ovunque. Eh sì, è sempre uno spettacolo. Ciao!